Dopo un po' di tempo incontriamo con piacere Domenico Santin, colui che ha messo in piede un'importante associazione culturale qui a Pordenone, il Sicomoro, il sicomoro.com per tutte le informazioni, ecco un'associazione che a me interessa perché è un po' come dire la nostra linea editoriale, le nostre trasmissioni, cioè voi lavorate a favore della vita, tutto per la difesa della vita di questo pianeta, che mi sa a me non è messo tanto bene questo pianeta, ecco sono passati tanti anni, io ti chiedo così uno sforzo se ci puoi un attimino fare un resoconto, innanzitutto questa associazione è nata nel 98 poco dopo e ha cominciato a portare avanti dei discorsi molto importanti dall'ambiente anche ad alcune situazioni un po' particolari, complesse come ad esempio l'ufologia fino ad arrivare anche alla legalità, cioè promuovere la legalità, ecco interagendo anche con altre associazioni mi viene in mente ad esempio Terra Mater, ecco allora come è nata intanto questa idea o questo progetto Domenico? Ma il progetto diciamo che è nato, è difficile dire, conosciuto Giorgio Bon Giovanni che portava avanti un messaggio molto preciso, un messaggio di Cristo, un messaggio della Mater, un messaggio anche sull'ufologia collegando queste situazioni. Poi questa cosa è andata avanti e cominciavamo operare per i bambini in Sud America per la vita, c'era una situazione abbastanza difficile anche quando ha fallito l'Argentina, noi eravamo là e avevamo delle mense, nove mense in cui con la raccolta di materiali più che di fondi, abbiamo fatto dei container per il cibo, per lavorare anche i genitori e li abbiamo portati in Sud America e così siamo andati avanti per diversi anni su questa strada. Poi abbiamo continuato con delle conferenze sul problema dell'ufologia portando questa informazione non falsata in cui se questi qua volessero non avrebbero il problema di prendersi la terra, non possiamo accusare che questi esseri vengono a conquistare la terra, non hanno bisogno, siamo già noi che la roviniamo, siamo noi di UFO che stanno rovinando tutto l'ambiente e già se ci guardiamo in giro, guardiamo a parte i terremoti tutti i giorni, ma guardate gli uragani, le trombe d'aria che vengono adesso, come mai prima non venivano? Praticamente quello che abbiamo seminato adesso lo raccogliamo Domenico? Raccogliamo tutto, raccogliamo il pezzo di quello che abbiamo fatto, perché è chiaro che quello che tu dai ti torna, noi cosa abbiamo dato a questo ambiente? Abbiamo dato solo danni, abbiamo visto la situazione dell'ambiente, abbiamo visto il disboscamento, abbiamo visto l'abbandono del territorio, dei fiumi, abbandonati le sporcizze che buttiamo nei fiumi, c'è poco rispetto e quindi mancando questo rispetto ci torna indietro tutto. Vuoi dire che anche la gente comune non ha rispetto per l'ambiente nel suo ambito diciamo locale? Ma io vorrei solo dire questo, come è possibile vedere delle persone che fumano o che mangiano una carta e buttarla per terra? La terra, a casa tua la butti per terra, in cucina butti per terra, la terra è la casa nostra di tutti, se Dio ce l'ha data, ce l'ha data perché la rispettiamo, noi non la rispettiamo per nessun motivo. Guarda la situazione che si è creata in Italia quest'anno ha incendiato dappertutto e non dirmi che l'incendio è a caso, siamo accorti che è stato provocato apposta, di cui gente che dice ma davo fuoco perché non sapevo cosa fare, siamo arrivati a questi livelli, l'ignoranza delle persone che non rispettano la natura. Diciamo che non c'è la consapevolezza anche che praticamente la terra è di tutti, non è solamente dell'altro. No, sono d'accordo, però è di tutti, ma noi dobbiamo lasciare quello che abbiamo trovato ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché noi non lasciamo questo, l'abbiamo distrutto, l'abbiamo inquinato tutto, non riusciamo più a bere acqua perché tu vedi dove erano le fontane che una volta si beveva oggi, perché sono inquinate pesticidi che buttano sulla terra, noi dobbiamo raccogliere la roba buona, ma non con i pesticidi, non con i veleni, non con i concimi chimici e questo non lo fanno, una volta facevano questo, oggi no, oggi per produrre il doppio buttano qualsiasi porcaria, io vedo qua vicino al campo di Aviano, quando fanno una semina, dopo 7 giorni è già alta, come mai? Questo mi chiedo io, sui campi di Sassi nasce l'erba, non l'erba, ma anche il grano turco, anche il frumento, la vedi alta dopo un paio di giorni, è un po' strano, sono cose che non riesco a comprendere. Quindi praticamente voi con il vostro lavoro state cercando di richiamare l'attenzione a questi problemi? Soprattutto, la gente deve tenere la terra, deve essere pulita, deve essere un ambiente sereno, non deve essere inquinato, dove vivono tutti, animali, uomini e vivere in amore, con un rapporto amorevole, questo devono fare, andare contro chi la sporca, chi la inquina, chi su queste cose non gliene frega niente, come quella di buttare via porcaria dal fuoco, ma tu crei un ambiente negativo, non è giusto, visto che i comuni, molti comuni sono molto bravi, fanno una raccolta differenziata, cosa ci costa di portarla? La pulizia, il lavoro dei sindaci, di chi lavora nei comuni, sono molto più bravi di chi ci governa, perché si danno da fare, e come si danno da fare? Per tenere pulita la natura, la terra. Poi nel terzo millennio, dal 2000 in poi, vi siete dedicati anche alla legalità, promuovere la legalità nelle scuole, portare i magistrati antimafia che sono in prima linea a Palermo, che aggiungo io, i medi nazionali poco ne parlano, e questo lo sottolineo, voi li portate in conferenza, cioè a contatto con la gente, per spiegare un po' come sta andando questa lotta al cancro mafia, perché si tratta di un cancro vero e proprio che l'Italia ha da troppo tempo. Ecco, perché anche questa cosa, Domenico? Perché la legalità è una cosa più naturale che può investire l'Italia. Sappiamo benissimo che la mafia vive grazie alla politica ai colletti bianchi, inutile che stiamo dietro a nascondersi. Di Matteo, che ha nove poliziotti che lo controlla, nove che lo aiutano e che è già arrivato il tritolo per farlo saltare, non solo lui, ma anche altri magistrati, continuano ad andare avanti con coraggio. Ma come mai il Presidente della Repubblica non dice una parola per questo uomo che già cammina da morto? Come mai? Lo vogliono morto, come ha voluto Falcone, come ha voluto Borsellino, dopo morti li innesiano. Ma no, devono innesiare da vivo, devi proteggerli da vivo, devono starli vicino da vivo, perché se la mafia sa che il Presidente della Repubblica o altri politici lo appoggiano, non lo attaccano. Invece con questo silenzio vuol dire fate pure quello che volete, poi noi andiamo a piangere e la gente si incassa durante i funerali, che è assurdo. Per questo che noi portiamo anche a Pordenone di Matteo, abbiamo portato Ingroia, abbiamo portato altri, perché la gente comprenda cosa stanno facendo questi, a che rischio vanno incontro. Questa è la verità, il rischio e non hanno paura. Non hanno paura, non come noi che abbiamo paura della nostra ombra, come la storia dei vaccini, la fanno morire. Ma come mai 10 vaccini tutti su un colpo? Una volta ce ne davano 4, eppure noi siamo ammalati, perché dicono che le aziende sono aziende che non ci guadagnano. Guarda la borsa come sono andate su. Pensiamoci bene, i vaccini non sono perfetti come dicono loro e poi perché spingono per obbligare? Nessun Stato obbliga, solo l'Italia. Dov'è la democrazia? Dov'è la libertà? Tu hai fatto anche, hai passato, ma anche fatti gli anni di piombo, gli anni 70, durante le vere battaglie sindacali. Oggi abbiamo perso, credo a colpi di penna, tutti i nostri diritti. Dunque, cosa ne pensi tu che provieni proprio, che sei il testimone di quei periodi molto importanti? Ma guarda, quello che posso dire io… Anzi, scusa, vi ringraziamo per il lavoro che avete fatto, noi che poi siamo nati e abbiamo trovato un mondo del lavoro decente, adesso non più d'accordo, però intanto vi ringraziamo per il lavoro che avete fatto a suo tempo. Scusa, prego Domenico. No, no, hai ragione, su questo non serve ringraziare, serve che purtroppo si doveva andare avanti e purtroppo il sindacato, io non do la colpa al sindacato o ai sindacalisti, anche se sono abbastanza scadenti alcuni. Do la responsabilità e la colpa agli operai che non si ribellano a questa situazione, perché noi eravamo operai, noi agivamo dentro, noi eravamo uniti, c'era l'unità. Oggi hanno creato il timore, la paura del posto di lavoro. Non si è lottato per il posto fisso, si è fatto di tutto per eliminare il posto fisso. L'articolo 18, sembra quasi che sia stato… L'articolo 18 garantiva a chi faceva attività sindacale la possibilità di farlo. Oggi non garantisce più niente. Il sindacato cosa ha fatto dietro? Si è diviso e la divisione ha aiutato il padronato, non ha aiutato i lavoratori. Questo io intendo dire. Quindi è assurdo la divisione all'interno di un posto di lavoro per gli stessi diritti, per gli stessi valori. Bisogna unirsi senza guardare i partiti, ma guardare gli obiettivi che ci vogliono raggiungere. Chiudiamo così, Domenico Rostantin. Oggi non sappiamo nemmeno se andremo vivi in pensione. E questo è pesante, eh? Ma io dico che saremo sempre vivi se la mente ci solegge. Se noi avremo sempre un pensiero positivo e non pensiamo sempre che gli altri ci freghino. Facciamo di tutto perché non ci freghino. Questa è la strada. E allora possiamo unirci. Perché molti giovani basta prendersi quei quattro soldi e andare a spenderli o in tabacco o in droga o roba di questo genere. Quindi dobbiamo andare avanti con coraggio e non aver paura di niente. Grazie. Grazie moltissimo Domenico e spero di ritrovarti ancora. Sempre. Non mi tiro mai indietro. Riprendiamo in studio. Ringrazio Domenico Santin, ex sindacalista degli anni 70 e 80, sempre impegnato nel sociale, sensibile ai problemi di oggi. Dunque un ragionamento che ci fa davvero riflettere tutti noi. Noi ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana. Vi ringrazio per averci seguito. A voi un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. a voi un buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.